sono corso precipitosamente a sedermi sulla paglia con la testa tra le ginocchia poi svanita poco per volta la mia paura di bimbo mi ha ripreso una strana curiosità di continuare la lettura del muro vicino al nome di Papavoin ho strappato un'enorme ragnatela tesa nell'angolo e sono apparsi quattro o cinque nomi perfettamente leggibili insieme ad altri di cui non resta che una lievissima traccia d'autant 1815 poulain 1818 jean martin 1821 castaigne 1823 ho letto questi nomi e mi sono venuti in mente lubri ricordi d'autant quello che aveva tagliato a pezzi il fratello e che di notte andava in giro per Parigi dettando la testa in una fontana e il tronco in una fogna quello che aveva assassinato sua moglie jean martin colui che sparò un colpo di pistola a suo padre mentre il povero vecchio stava aprendo una finestra castaigne il medico che aveva avvelenato l'amico e che curandolo durante l'ultima malattia che gli aveva procurato invece di medicina gli somministrava di nuovo veleno e Papavoin l'orribile pazzo che uccideva i bambini a colpi di coltello in testa ecco mi dicevo un brivido di febbre mi correva per la schiena ecco gli ospiti che mi hanno preceduto in questa cella ecco sullo stesso pavimento in cui sono io che quei sanguinari assassini hanno pensato i loro ultimi pensieri è intorno a questi muri in questo stretto quadrato che si sono aggirati come belve inferocite e come si sono succeduti a breve intervalli si direbbe quasi che la cella non si vuoti mai ed abbian lasciato il posto caldo a me lo hanno lasciato e anch'io andrò a raggiungerli al cimitero di Clamont dove l'erba cresce così bene io non sono né visionario né superstizioso ed è anche probabile che queste idee mi dessero un po' di febbre ad ogni modo il fatto è che mentre ero preso da queste immaginazioni tutta un tratto mi sembrò che questi terribili nomi fossero scritti col fuoco sul nero del muro un tintinnio sempre più precipitoso mi risuonò nelle orecchie un bagliore rosso mi riempì gli occhi e mi sembrò che la prigione fosse piena di uomini strani uomini che portavano la loro testa con la sinistra e la portavano per la bocca poiché non aveva capelli tutti tranne il parricida mi mostravano il pugno con orrore chiusi gli occhi e tutta la scena allora mi parve ancora più chiara sogno visione o realtà sarei impazzito se la brusca impressione non mi avesse risvegliato in tempo stavo quasi per cadere diverso quando sentii strisciare sui miei piedi nudi un ventre freddo e dei piedi vellutati era il ragno che avevo disturbato e che fuggiva questo mi ha risvegliato dall'incubo gli spaventosi spettri ma no era una nebbia una immaginazione del mio cervello vuoto ed esaltato chimere alla macbeth i morti sono morti questi soprattutto essi sono ben incatenati nella tomba e quella non è una prigione da cui si possa evadere ma come può allora essere che io abbia avuto così tanta paura la porta del sepolcro non si apre dal di dentro alcuni giorni fa ho visto una cosa disgustosa era appena giorno e la prigione era piena di rumori si sentivano aprire e chiudere le pesanti porte stridere i chiavistelli e le catene di ferro tintinnare i mazzi di chiavi appesi alla cintura dei secondini e tremare le scale dall'alto in basso sotto il peso di passi precipitosi e voci che si chiamavano da un capo all'altro dei lunghi corridoi i miei vicini di cella i forzati in segregazione erano più allegri del solito tutta bissetre pareva ridere cantare correre danzare io solo muto in tutto quel fracasso solo immobile in quel tumulto attento e stupito ascoltavo passò un secondino mi azzardai a chiamarlo e a chiedergli se in prigione era festa in un certo senso sì mi rispose è oggi infatti che si ferrano i forzati che devono partire per Tolone se volete vedere avrete da divertirvi per la verità uno spettacolo era una vera fortuna per un recluso solitario e accettai il divertimento prese le solite precauzioni per assicurarsi di me il guardiano mi portò in un'altra piccolissima cella completamente vuota e con una finestra chiusa da sbarre ma una vera finestra ad ogni modo è ad altezza d'uomo e attraverso cui realmente si poteva vedere il cielo ecco mi disse da qui vedrete e sentirete e sarete solo nella vostra stanza come il re nel suo palco poi uscì e chiuse su di me serrature catenacci e chiavistelli la finestra dava su un ampio cortile ai lati del quale si alzava come una muraglia un grande edificio a sei piani in pietra viva niente di più squallido di più nudo di più miserabile che la vista di quella quadruplice facciata forata da una moltitudine di inferriate alle quali alle quali si tenevano incollati dal basso in alto una folla di visi pallidi e magri schiacciati gli uni sopra gli altri come le pietre di un muro e tutti incorniciati per così dire nei riquadri delle sbarre di ferro erano i prigionieri gli spettatori della cerimonia che aspettavano di diventare attori a loro volta e sembravano anime in pena agli spiragli del purgatorio che danno sull'inferno tutti guardavano in silenzio il cortile ancora vuoto e aspettavano qua e là tra le figure pallide e dolenti brillavano degli occhi vivi e pungenti come di fuoco il quadrato delle prigioni che formano il cortile non si chiude su se stesso uno dei quattro bracci dell'edificio infatti è interrotto nel centro e non si riattacca al successivo che tramite un cancello che si apre su un secondo cortile più piccolo del primo è come quello recentato da muri nerastri tutto intorno al cortile principale addossati al muro corrono dei sedili di pietra e nel mezzo si innalza un palo di ferro ricurvo destinato a sostenere una lanterna suonò mezzogiorno un grande portone nascosto da una rientranza si aprì di colpo e con un sordo rumore di ferraglie entrò pesantemente un carretto scortato da alcuni soldati sporchi ed unti in difesa blu con spalline rosse e bandoliere gialle la ciurma e le catene nello stesso istante come se quel rumore avesse risvegliato tutti i rumori della prigione gli spettatori delle finestre fino ad allora silenziosi e immobili scoppiarono in grida di gioia in canzoni e in minacce miste a scrosci di risa strazianti su ogni viso c'era una smorfia i pugni protesi fuori dalle sbarre tutti urlanti e a piena voce tutti con gli occhi iniettati di sangue sembravano demoni gli aguzzini tra i quali si poteva distinguere per i vestiti borghesi e la loro paura alcuni curiosi venuti da Parigi si misero intanto tranquillamente al loro lavoro uno di essi salì sul carro e cominciò a lanciare ai compagni le catene i collari da viaggio e i pacchi di pantaloni di tela poi si divisero tra loro le varie incombenze gli uni andarono a stendere in un angolo del cortile le lunghe catene che chiamavano nel loro gergo gli spaghi gli altri spiegarono sull'acciottolato i taffetà le camicia e i pantaloni mentre i più abili andavano esaminando a uno a uno sotto l'occhio del loro capitano un vecchio basso e atticciato i collari di ferro che provavano infine facendoli tintinnare sui sassi il tutto tra le acclamazioni ironiche dei prigionieri la cui voce non era dominata che dalle risa sguagliate dei forzati per i quali si facevano tutti quei preparativi e che si vedevano in fondo alle finestre della vecchia prigione che da sul cortile più piccolo quando infatti si terminò un signore tutto ricamato d'argento che chiamavano signor ispettore diede un ordine al direttore della prigione e un attimo dopo due o tre porte basse vomitarono quasi contemporaneamente in un turbine impetuoso un nugolo di uomini laidi urlanti e cenciosi i forzati a quella vista raddoppiamento di gioia alle finestre e alcuni di loro i grandi nomi del bagno furono addirittura salutati da acclamazioni e applausi che loro ricevevano con una specie di fiera modestia la maggior parte dei forzati aveva una specie di cappelli intrecciati dalle loro stesse mani con la paglia della cella sempre in una forma strana affinché nei paesi dove si sarebbe passati il cappello facesse notare la testa e quelli erano i più applauditi uno soprattutto suscitò particolari manifestazioni di entusiasmo un giovanotto di 17 anni con un viso di ragazza che usciva allora dalla cella dove era stato segregato per otto giorni del suo materasso di paglia si era fatto un vestito che lo copriva dalla testa ai piedi ed entrò nel cortile facendo la ruota su se stesso con l'agilità di un serpente era un saltimbanco condannato per furto e al suo apparire ci fu uno scoppio di applausi e di grida di gioia la società aveva un bel essere là rappresentata dalle guardie e dai curiosi spaventati il delitto le sghignazzava in faccia e di quell'orribile castigo ne faceva una festa di famiglia intanto a mano a mano che i forzati arrivavano venivano spinti tra due file di guardia ciurma nel cortiletto con la cancellata per la visita medica era là che tutti quanti facevano un ultimo disperato tentativo per evitare il viaggio allegando qualche misera scusa gli occhi malati la gamba sozza la mano mutilata o che altro so io quasi sempre però erano trovati buoni per il bagno e allora in pochi momenti si rassegnavano tranquillamente dimenticando in un minuto la pretesa infermità di tutta la vita dopo un po' il cancello del piccolo cortile si aprì un guardiano fece l'appello in ordine alfabetico e tutti i forzati ad uno ad uno uscirono e si andarono a mettere in piedi in un angolo del cortile vicino a un compagno assegnato dal caso della lettera iniziale così di colpo ognuno si vive realmente ridotto da solo con se stesso ognuno con la propria catena per sé fianco a fianco con uno sconosciuto poiché se per caso qualcuno aveva un amico la catena lo separava quando ne furono usciti una trentina il cancello fu rinchiuso di nuovo un guardiano li allineò col suo bastone gettò davanti a ognuno una camicia e dei pantaloni di tela grossolana fece un segno e tutti cominciarono a svestirsi proprio in quel momento un nuovo accidente inatteso venne a mutare l'umiliazione in tortura fino ad allora infatti il tempo era stato abbastanza buono e il vento d'ottobre benché raffreddasse l'aria di tanto in tanto apriva qua e là nelle brume grigiastre del cielo qualche spiraglio da cui cadeva un raggio di sole ma non appena ai forzati si furono spogliati dei loro cenci nel momento in cui si offrivano nudi e in piedi alla vista sospettosa dei secondini e agli sguardi dei curiosi che giravano loro intorno per esaminare le spalle il cielo si oscurò e sulle loro teste scoperte sulle povere membra nude sui loro miseri stracci sparsi sull'acciottolato improvviso a torrenti scrociò un freddo acquazzone autunnale e non batter d'occhio mentre i curiosi di Parigi correvano a ripararsi sotto le tettoie delle porte lo spiazzo fu vuoto di tutti coloro che non erano guardiani e galeotti intanto la pioggia cadeva a fiotti e non si vedevano più nel cortile che i forzati nudi e grondanti sul selciato sommerso un cupo silenzio era seguito alle loro rumorose bravate tremavano e battevano i denti le loro gambe magre e i ginocchi si urtavano insieme e facevano a tal pena veder mettere sulle loro membre illividite quelle camicie inzuppate quelle vesti quei pantaloni gocciolanti di pioggia che la nudità sarebbe sembrata addirittura migliore uno solo un vecchio aveva conservata qualche allegria e andava gridando mentre si asciugava con la camicia bagnata che quello non era nel programma poi cominciò a ridere mostrando i pugni quando ebbero indossato gli abiti da viaggio li portarono in squadre di venti o trenta nell'altro angolo dello spiazzo dove c'erano i cordoni allungati per terra sono questi cordoni delle lunghe e robuste catene interrotte trasversalmente ogni due piedi da un'altra catena più corta alle cui estremità è attaccato un collare quadrato che si apre per mezzo di una cerniera applicata ad uno degli angoli e che per tutto il viaggio si chiude nell'angolo opposto con un bullone di ferro ribadito sul collo del galeotto quando sono stesi sembrano delle grandi lische di pesce i secondini fecero dunque sedere i forzati nel fango sull'acciottolato bagnato e si misero a provare i loro collari poi due fabbri della ciurma armati di piccole incudini con grandi colpi di mazza glieli ribatterono a freddo è un momento terribile in cui anche i piorditi impallidiscono ogni colpo di martello infatti vibrato sull'incudine appoggiata alle loro schiene far imbalzare il mento e un minimo movimento all'indietro farebbe loro saltare il cranio come un guscio di noce dopo questa operazione diventarono taciturni non si sentiva più che il tintinnare delle catene e ogni tanto un grido e il colpo sordo del bastone del guardia ciurma sulle membra dei recalcitranti qualcuno allora piangeva ma i vecchi tremavano e si mordevano le labbra io li guardavo e avevo terrore di tutti quei profili sinistri nelle loro cornici di ferro e così pensavo dopo la visita del medico la visita dei secondini dopo la visita dei secondini la ferratura tre atti per questo spettacolo orribile a un tratto riapparve un raggio di sole e sembrò che il fuoco entrasse in tutti quei cervelli i forzati si rialzarono immediatamente come in un moto convulso i cinque cordoni si presero per mano e in un momento formarono un gran cerchio intorno al palo della lanterna cantavano una canzone nel bagno una romanza in gergo su di un'aria ora triste ora allegra e furiosa ogni tanto si sentivano delle grida acute e degli scoppi di risa stridule e ansanti mischiarsi a misteriose parole poi delle acclamazioni furibonde e le catene che si urtavano fra loro in cadenza facevano da orchestra quel canto più rauco del loro rumore a un certo punto portarono in mezzo allo spiazzo una grande tinozza dove galleggiavano non so che erbe in una specie di liquido sudicio e fumante e i guardi a ciurma rotta la danza dei forzati a colpi di bastone ve li portarono e li fecero mangiare terminato e gettato per terra i resti della broda e del pane nero ricominciarono a ballare e cantare il giorno della ferratura e la notte seguente infatti è loro concessa questa libertà io intanto me ne stavo a guardare questo strano spettacolo con una curiosità così avida così ansiosa e attenta che mi ero completamente dimenticato di me stesso e una profonda pietà mi commuoveva fin nelle più intime fibre e piangevo quando li sentivo ridere in quella maniera all'improvviso attraverso la fantasticheria in cui ero caduto vidi il girotondo urlante fermarsi di colpo e ammutolire poi tutti gli occhi si girarono verso la finestra dove ero io il condannato gridarono tutti mostrandomi a dito e le esplosioni di gioia raddoppiarono ancora restai agghiacciato io non so in che modo mi avessero mai conosciuto buongiorno buonasera mi gridavano sghignazzando atrocemente e uno dei più giovani faccia rivida e tirata condannato a vita ai lavori forzati mi guardò con aria di invidia dicendo fortunato sarà tosato addio camerata io non so dire quello che provai effettivamente ero loro camerata la greve e sorella di tolone anzi ero addirittura più in basso di loro ed erano essi che mi facevano onore fremevo ma già loro camerata e di lì a qualche giorno avrei anche potuto essere io uno spettacolo per loro ero rimasto alla fine immobile rattrappito paralizzato ma quando vidi quei cinque cordoni avanzare e rotolare verso di me con delle parole di una infernale cordialità quando senti il tumultuoso fracasso delle loro catene dei loro clamori dei loro passi ai piedi del muro mi sembrò che quel nugolo di demoni stesse per scalare la mia miserabile cella e tirato fuori un gran grido mi lanciai sulla porta con tutta la violenza di cui ero capace ma non c'era modo di fuggire i catenaci erano tirati dal di fuori picchiai e gridai con rabbia poi mi sembrò di sentire ancora più da vicino le spaventose voci dei forzati credetti di vedere già le loro teste odiose apparire ai bordi della finestra gettai un altro grido d'angoscia e caldi svenuto l'abbia di l'abbia di e l'abbia di l'abbia di l'abbia di l'abbia di